Al fun del benecè della Gleiso San Pao di Narbunno, truban, o, uno graniotto di marme, che barbotto dempei for l'untenz. Forso leggendo Slenrodon, seriò un anziano all'igado di San Pao di un gioco che lo pausavo al pescaire di bacio. O, uno romano convertito, cambiato a un reinetto per escapar al martir. O, uno quito simplo graniotto, petrificato, per careste di tribù la lupresig del San per sus cuarnomens. Mas perché lo paureba trasciare pasché tres patos? Hercule Birat, poeta narbunese del segle XIX, ha su un'ideio su la question. Un compagnu nominato Caliste di Nancy entra meno su un tour di franzo. Su un paere lo sumo d'anà pendent su un viaggio di la Gleiso di San Pao. A chi puirà a descubrir la graniotto? Un subvenì di paero del set di Narbunno pendent locali lus abitanti su brebischerun en seno ri di Batracia. Arribat sul site, caliste bei plà di monumenti, mas sublido lo benecce, appena tornata all'ustal, a chi lo duncos che sarebbe inviata in Arbunno per su un paere. Pel camì, lo giubben premedito sa benjanzo. Davant l'animal, tento de lo reduzi a troces. L'aigo del benecce se cambia subito men in sang. Lo giubben espaventat se infugis puoi s'espataro. Passara un annado all'hospital. D'un gino varianto d'aquell'istorio, escriccio per Frédéric Mistral, nostre ubriè es originari de grasso, mas nostro reinetto se pertù giun sapato dreito de Daban. Sous-titrage ST' 501